8 anni e 9 mesi di reclusione è quanto chiesto dalla Procura di Lecce per l'ex GIP del Tribunale di Bari Giuseppe De Benedictis. 8 anni e 5 mesi per l'ex avvocato penalista barese Giancarlo Chiariello. Si è conclusa così la requisitoria nell'ambito del processo che si sta celebrando a Lecce con rito abbreviato su presunte corruzioni in atti giudiziari relative a tangenti in cambio di scarcerazioni. I magistrati chiedono anche la confisca diretta delle banconote 1,2 milioni di euro in contanti trovate contestualmente agli arresti nell'aprile del 2021 in casa del figlio dell'avvocato Chiariello nascoste in Borsoni. 9 in tutto gli imputati oltre De Benedictis e Chiariello entrambi tuttora agli arresti domiciliari ci sono il figlio di Chiariello Alberto avvocato anche quest'ultimo per cui la Procura ha chiesto la condanna a 4 anni come per Marianna Casadibari avvocatessa dello stesso studio legale. Sono altre 4 le condanne chieste dai PM, 4 anni e 8 mesi per l'appuntato dei carabinieri Nicola Vito Soriano in servizio presso la Procura di Bari che risponde di corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio. Per 3 dei 4 imputati che secondo i magistrati Salentini avrebbero usufruito delle scarcerazioni frutto degli accordi corruttivi Danilo Pietro della Malva, Roberto Dello Russo e Antonio Ipedico la richiesta di 3 anni e 8 mesi di reclusione. Chiesta l'assoluzione per uno solo degli imputati l'avvocato più Michele Gianquitto. La Procura insiste sul riconoscimento dell'aggravante mafiosa nei confronti dell'ex GIP De Benedictis e di altri sei dei nove imputati. Nelle prossime udienze il primo di marzo e il 22 discuteranno i difensori. La sentenza è prevista per il 29 marzo.